Ciao a tutti da Saludatore, una grandissima sorpresa, eccomi qui con una bravissima attrice Imma Piro, protagonista di questo bellissimo film che esce il 24 maggio. Buon protagonista. Ecco, fa parte comunque del casto degli attori. Sono la mamma di Valeria Zonarino, la sua caratteristica Filippa Nari e sono la pazienza. Il protagonista secondo me. Ecco qui, la settima onda. Ecco, un messaggio bellissimo con il suo film. E' stato bellissimo perché è un film, è buonissimo, è un'operazione di queste persone. Però c'è raccontato una storia umana, un'associazione bellissima, un'etica. Grande regista Massimo Bonetti. E abbiamo aperto questa sua vogliazione. E' un'attrice che l'ha fatto. E' una palla di buzione. E' una palla di buzione. E' arrivato, è arrivato, perciò non mancate, dal 24 maggio a vedere questo film bellissimo. La settima onda. E io ti chiedo un saluto speciale a tutti i tuoi fan che ti seguono sempre, Imma. Allora, un saluto speciale a tutti i tuoi fan che non la prende, che è un'ottrice che è un'ottrice di una cilina ma è un'attrice di un'ottrice. E mi vedrà a noi. Non mancate, salugiamo tutti quanti, ciao e una sorpresa per te, la manina del salugatore. Ciao.